Risponde a Mosduro, Giorgia Meloni, alla sceneggiata delle opposizioni in aula a Montecitorio di martedì pomeriggio Giuseppe Conte ha stracciato platealmente il testo del disegno di legge sul salario minimo, testimoniando il disgusto del Movimento 5 Stelle per le modifiche apportate dalla maggioranza di centrodestra Alice Klen, segretaria del PD, l'ha seguito a ruota ritirando la propria firma dal documento Punto con la proposta sul salario minimo presentata dalle opposizioni per paradosso rischiavi di abbassare alcuni salari un po' più alti per adeguarsi ai 9 euro Come maggioranza abbiamo presentato un emendamento per risolvere il problema delle sacche di quei lavoratori che hanno stipendi più bassi dei 9 euro l'ora, e penso per esempio ai lavoratori domestici, questo senza rischiare di abbassare gli altri Ha puntualizzato la Premier in una lunga intervista a Non Stop News su RTL102 5. Durante la quale ha affrontato tutti i temi in agenda Dagli attacchi personali subiti sulla propria vita privata, senza pietà, ma mettiamo l'elmetto e combattiamo, al 2023 anno tosto, abbiamo dovuto gestire il disastro, dalla violenza sulle donne al patto di stabilità, dal premierato alla giustizia Punto sulle protesti delle opposizioni un po' sorrido, aggiunge polemica la Meloni, perché in dieci anni che sono stati al governo hanno mai fatto una legge sul salario minimo E ne ha anche per i sindacati, scesi in piazza i protagonisti di scioperi a raffica Devo anche dire che mi incuriosisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare la bontà del salario minimo, ma quando vanno a firmare tratti collettivi accettano contratti da poco più di 5 euro l'ora come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata, quindi bisognerebbe essere anche un po' più coerenti penso Chissà se al segretario della CGL Maurizio Landini, che sia di fatto autocandidato a federatore del centro-sinistra, saranno fischiate le orecchie Grazie 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 Grazie